Passate le feste natalizie a Teramo si comincia a smontare tutto, luminarie, decorazioni, boschi incantati. È un po' triste ma ci si consola con le cifre inedite di visitatori e affari, soprattutto in centro storico. Una buona ripresa economica e morale, inseguita e mai raggiunta fino a quest'anno, che ha visto i commercianti teramani in prima fila con il consorzio shopping in Teramo Centro, organizzare in sinergia con il comune il nuovo Natale. Sicuramente è stato un Natale diverso dagli altri Natali. Ripeto, c'è stata tanta gente in giro, di fuori parecchie persone che ci sono venute a trovare, anche magari non per forza hanno acquistato, però sicuramente si è rivisto tanto passeggio per Teramo che non si vedeva da tempo. I saldi, come stanno andando? La partenza è stata buona. Posso sembrare estremamente ottimista in questa cosa, però in realtà è così. La partenza è stata buona, i primi giorni sono andati bene. Poi chiaramente è fisiologico, adesso ci sarà un calo per forza, però i primi tre giorni il bilancio è positivo. E intanto da due giorni in città sono iniziati i saldi. Sarà l'effetto positivo di trascinamento del Natale Capodanno-Teramano, ma anche questi sembrano essere partiti con il piede giusto. Quest'anno davvero abbiamo avuto un Natale diverso, diverso un po' dai precedenti. Per quello che riguarda un po' il consuntivo siamo soddisfatti perché tanta gente quest'anno è tornata finalmente a Teramo e questo ha portato movimento e anche un po' di economia. Per quanto riguarda poi invece il fatto di tornare ad avere una Teramo brillante, sarà una programmazione che dovrà essere fatta senza altro con il Comune. C'è questa idea di organizzare un tavolo di lavoro proprio per programmare tutto l'anno queste iniziative perché da questo davvero bisogna ricominciare sia per Teramo e un po' per tutti quanti. I saldi come vanno? Siamo soddisfatti della partenza perché bisogna anche sottolineare che c'è un'offerta bella e importante sia in termini merceologici ma anche in termini di sconti. Quindi questi primi due giorni siamo ottimisti. Certo, devono continuare su quest'onda. Siamo in attesa di avere dei riscontri positivi anche da parte degli altri colleghi.